Melania Trump, visita al negozio di perle in Giappone Melania Trump ha fatto visita al Giappone insieme a suo marito Donald, oltre agli eventi di rito ha visitato anche uno storico negozio di perle Perle, che passione Donald e Melania Trump hanno fatto il loro primo viaggio in Asia, dove hanno reso visita al premier giapponese Shinzo Abe a sua moglie Aki, dopo gli eventi ufficiali cui hanno presenziato, si sono goduti del tempo libero nel paese del sollevante cercando di rilassarsi Il ticone è quindi andato a giocare a golf con il primo ministro, mentre Melania Trump si è recata insieme alla First Lady Agenza, in un negozio di perle, dove le lavoratrici sono state felici di mostrare alla prima donna dAmerica le qualità più rare e le splendide decorazioni fatte a mano Melania ha resistito e non ha comprato nulla, sottoponendosi però alla foto di rito con Aki Abe e le commesse dello show La bizzarra Riot, SCAD Prima di arrivare in Giappone, già numerosi magazine parlavano della visita di Melania e Ivanka Trump nel paese del sollevante per un motivo alquanto bizzarro, laddestramento delle forze di polizia femminili Il governo ha infatti istituito una Riot SCAD con il compito specifico di bloccare le fan delle due donne americane che, si pensava, avrebbero cercato di raggiungerle per offrire regali e cercare di avere delle foto Niente di tutto questo sembra essere successo, e la Riot SCAD non è entrata in funzione anche se in molti ci hanno sperato Amate e ammirate da tutti Sono molte le donne che ammirano Melania e Ivanka Trump per il loro charme e aspetto fisico Addirittura in migliaia chiedono ai chirurghi estetici di avere un volto esattamente come il loro Ex supermodella di fama mondiale, quella di Melania è una bellezza completamente naturale, segnata dal tempo ma comunque abbagliante La donna, come ha riferito in diverse occasioni, si rifiuta di sottoporsi a interventi di chirurgia estetica che, anzi, condanna fortemente Sono contro il botulino e sono contro le punture Credo che danneggini il viso e compromettano i nervi Questa sono io Voglio invecchiare con grazia, come ha fatto mia madre, ha detto in più di un'occasione Anche Ivanka, figlia di un'altra ex modella, Ivana Trump, è di una bellezza notevole, tanto che il padre ha detto con orgoglio che supera addirittura Charlie Zeteron, considerata una delle donne più sexy del mondo D'altra parte Donald Trump ha avuto sempre mogli stupende, e stranamente tutte ex modelle, da Ivana a Marla Maples fino a Melania, è impossibile stabilire quale sia la più avvenente, dato che ognuna lo è a modo suo E non è quindi strano che anche i figli del presidente siano uno più carino dell'altro Anche Ivanka Anche Ivanka